Buonasera, un caffè con la dottoressa Francesca Favia, esperta in bandi europei. Questa sera parleremo del nuovo regolamento europeo sulla privacy che è entrato in vigore ben due anni fa, a maggio del 2016, ma il cui termine ultimo per adeguarsi a questi obblighi è fissato fra due o tre mesi, per il 26 maggio 2018. A questo regolamento si dovranno adeguare tutte le aziende che operano sul territorio e naturalmente adesso la dottoressa Favia ci spiegherà in particolare di che cosa si tratta. Bene, grazie di aver accettato il nostro video dottoressa. Di che si tratta questo nuovo regolamento europeo sulla privacy? Forse l'ennesimo balzello per le nostre attività? Bene, come l'ho detto, il regolamento europeo della privacy è entrato in vigore il 26 maggio del 2016 e quindi tutte le aziende con più di due dipendenti sono obbligate entro il 25 maggio 2018 ad avere quindi un registro della privacy dove praticamente questa azienda è a norma sul trattamento dei dati personali. Senti Francesca, aziende quindi diciamo quelle iscritte alla Camera di Commercio, vogliamo dire il parrucchiere, il supermercato, il bar. Esattamente, tutte quelle aziende che hanno più di due dipendenti sono obbligate ad avere il registro della privacy. Il registro della privacy è abbastanza, diciamo, non difficile però ha delle peculiarità abbastanza varie che sono differenti quindi d'azienda ad azienda. Per questo abbiamo pensato comunque di effettuare un seminario qui il 5 di aprile con l'avvocato della Tactics Group dove spiegheremo quindi alle aziende come deve essere appunto sviluppato il registro privacy. La Tactics Group è una società specializzata in servizi avanzati di consulenza alle imprese e quindi è composto da un team di avvocati e di professionisti che diciamo è una società con servizi anche a Roma, a Perugia, a Reggio Calabria, a Brindisi. Quindi sono esperti del settore e potranno quindi informare dettagliatamente i nostri commercianti, le nostre aziende. Sì, ci sarà proprio un'analisi di ogni azienda interessata e da lì ci sarà appunto alla fine un preventivo per poter appunto indicare quali sono i costi per l'azienda e quale tipo di registro privacy necessitano. Senti Francesca, ancora costi per queste aziende che hanno tante difficoltà diciamo a restare in piedi? Quante aziende hanno chiuso in quest'ultimo periodo? Mettiamo questi altri balzelli, insomma non se ne capisce più. Fammi essere critico, ma perché è così? Sì, perché... Eh, queste sono le leggi, questa è una legge europea. Questo significa stare in Europa. Certo, è una legge europea del 2016 e quindi voglio dire non stiamo parlando appunto dello Stato italiano che ci obbliga di stare diciamo entro certi termini, ma è appunto la comunità europea. Quindi non solo noi italiani siamo obbligati ad avere quindi, ad essere a norma, ma tutta la comunità europea. Inoltre volevo anche indicare, volevo anche specificare che le aziende che non avranno quindi rispettato gli obblighi entro il 25 maggio 2018... Ci saranno delle sanzioni? Ci saranno soggette delle sanzioni abbastanza alte che valgono, certo, dai 20 milioni fino anche al 4% del fatturato. Quindi per questo adesso è importante che le aziende interessate partecipino al seminario che si svolgerà qui a Lab Creation il 5 di aprile. Devono riorganizzare, si dice, i processi aziendali. In parole povere, Francia, che significa per il bar che ha due dipendenti, riorganizzare i processi aziendali? Sono parolone, no? Oppure la rimodulazione del sistema informativo? Certo, oggi viviamo sui social network, oggi viviamo su una nuvola iCloud e siamo quindi particolarmente sensibili ad attacchi, che per questo dobbiamo essere a norma e dobbiamo avere una garanzia che i dati sensibili non vengano diffusi, dispersi o tantomeno anche rubati. Quindi è importante essere a questo punto, avere... Al passo con i tempi. Certo, certo. Senti, Francia, ma dal 2016, quando è entrata in vigore questa normativa, no? Questi nuovi addempimenti sulla privacy, ad oggi, due anni dopo, in Italia, a mesagni, che è stato fatto? Ad oggi, la verità, quasi nessuno, pochissime, solo le aziende, diciamo, quelle che lavorano appunto con dei grossi dati sensibili, informati, sicuramente sono già a norma. Tra l'altro bisogna dire che le aziende, oltre a aprire, tra virgolette, questo registro privacy, col tempo sono obbligate anche a degli aggiornamenti. Quindi non finisce qui? Certo, certo. Ci sono dei periodi entro il quale le aziende, dopo aver quindi aperto il registro privacy, deve effettuare dei costanti aggiornamenti per dichiarare sempre che comunque tutto, diciamo, il database, tutti i dati sensibili sono sempre protetti. Ma probabilmente, Francesca, di questo nuovo regolamento i nostri commercianti, le nostre aziende locali non ne sanno niente probabilmente, o mi sbaglio? Nessuno, devo essere sincera, nessuno, anche se ci spostiamo fuori mesagne, sulle cese, devo essere sincera, quasi nessuno. E il fatto che la scadenza sia veramente vicino, quindi sollecitiamo a questo punto chi è interessato a venire. Da informarsi, quantomeno. Sì, 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 o di informarsi, o se vuole essere informata di venire qui il 5. Anche perché il seminario è gratuito. Certo, è gratuito, è gratuito, poi l'azienda interessata lascerà i recapiti qui alla Lab Creation, sarà contattata quindi dai consulenti della Taltis Group per una consulenza. Eventuale. Sì, abbastanza minuzione. Ma chi avrebbe dovuto informare, diciamo, le nostre aziende? Che so, le organizzazioni di categoria? Beh, se vi adono i competenti, il ministero. Comune di Mesagne o le associazioni dei commercianti, eccetera, hanno fatto niente a questo proposito in questi due anni o sono stati zitti? Beh, io, devo essere sincera sul luogo, non mi sembra di aver visto qualcosa. Attualmente ho notato anche tramite social network della comunità europea ci sono, diciamo, abbastanza delle informazioni che sollecitano appunto le aziende a mettersi quindi a norma sulla scadenza prefissata. Però, devo essere sincera, non ho avuto modo di notare delle informazioni al riguardo. E soprattutto, ripeto, sapendo che la scadenza è fissata il 25 maggio 2018. Ma guarda che sembra davvero strano. Chi avrebbe dovuto, io insisto, chi ha il compito di informare il territorio? Beh, sicuramente gli ordini competenti, quindi mi riferisco. Cioè, nome e cognome? Ma anche lo Stato di per sé, voglio dire, credo che tramite poi le amministrazioni o tramite, voglio dire, magari gli assessorati di competenza abbia dovuto comunque, no? Non lo sappiamo se gli assessorati di competenza sono a conoscenza di questo nome. Ma sicuramente sì, perché avranno ricevuto delle circolari al riguardo, sicuramente. E poi, ripeto, ultimamente il popolo del, chiamiamolo il popolo dei social network, si è attivato per avvisare gli utenti della scadenza del 25 maggio 2018. Quindi, ripetiamo che il seminario si trarrà qui a Lab Creation alle ore 19 del 5 aprile e verrà un esperto di questa società, di questa... Sì, l'avvocato Claudio Pennestri verrà qui e lui... Illustrerà. Sì, illustrerà, esperto proprio delle normative europee, illustrerà in maniera abbastanza precisa di come è suddiviso il regolamento europeo e come è esattamente composto questo registro privacy perché è facile dirlo ma spiegarlo ha una sua particolarità e per questo non ci teniamo a informare le aziende perché anche il costo del registro privacy è variabile a seconda appunto dell'azienda e per questo è importante... Ma quant'è variabile più o meno, Francesca? È variabile perché dipende dai dipendenti, dai... Dal fatturato probabilmente, no? Dal fatturato, dai dati sensibili che un'azienda, diciamo, comporta e poi dipende da quanti fascicoli questa azienda e da quanti fascicoli deve essere composto il registro privacy e poi dipende anche dagli aggiornamenti che deve effettuare Beh, se dovrà essere aggiornata annualmente, presumo, no? Beh, se un'azienda, per esempio, da quando la legge è entrata in vigore nel 2016 aveva già provveduto a effettuare il registro privacy Ma io ho i miei dubbi? Oggi deve soltanto effettuare un aggiornamento Certo, certo Ma come dicevi tu Pocazzi, soltanto grossi aziende... Io, diciamo, nel confronto territoriale non ho avuto nessun riscontro positivo Ad oggi, anche sulle cese molte aziende sono sprovviste... All'oscuro polovio di questo... Sì, 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 certo, sì Poi si sa, quando comunque ci sono queste cose da effettuare corsi oppure da effettuare consulenze extra siamo un po' nell'animo umano e c'è sempre l'aspetto di rimandare e avvicinarsi alla scadenza però siccome la scadenza è veramente ormai dietro l'angolo quindi noi offriamo questo servizio gratuito il 5 di aprile Chiunque appunto è... Interessato Interessato Quanto meno a venire, a informarsi e a sentire Certo, certo Ecco, può venire qui alla Bacriest in via Luca Antonio Resta nel centro storico oppure telefonare al 392 0060 788 risponderà Stefania Molfetta che sta organizzando questo seminario Certo, poi con le aziende interessate a sviluppare registro privacy, prenderemo dei contatti, degli accordi e ci legheremo periodicamente sul luogo per iniziare questo percorso per avere il registro privacy personale Ma potranno essere autonomi una volta che hanno imparato la procedura il parrucchiero, il titolare del bar può farsi da solo questo aggiornamento? Ma è una domanda abbastanza complessa No, perché comunque un'azienda è sempre preferibile che sia supportata da un consulente perché ripeto, è veramente particolare questa procedura Sì, la procedura è veramente particolare quindi suggerisco per questo di informarsi con il tempo necessario Ma è una bella notizia noi facciamo questo servizio per dare informazioni non è certamente una bella informazione una bella notizia per i nostri commercianti per gli operatori economici per il gestore del bar della pizzeria del ristorante però stare in Europa significa anche questo Quali sono i lati positivi? Non lo spieghi Oggi viviamo in un mondo dove tutto è aperto viviamo con la nostra nuvoletta iCloud sopra la testa dove chiunque può entrare a guardare le mie foto le tue foto che siamo voglio dire dei soggetti singoli non siamo delle aziende quindi voglio dire pensiamo ad un'azienda che ha dei fatturati importanti che ha tanti dipendenti con dati sensibili dei dipendenti Sì, questo è vero questo registro sicuramente garantirà una certa sicurezza ovviamente per questo c'è una differenza anche di costo rispetto al registro privacy di un'azienda con 40 dipendenti e un'azienda con due dipendenti però sicuramente ci sarà una tutela maggiore Questo è il mondo che ci siamo cercato questo è il mondo che abbiamo non c'è più il negoziante fra virgolette non siamo a mesagno il cazzillo che ci dà che ci dà il centro letto di mortadella ormai siamo in questo mondo Francesca ti ringrazio ti ringrazio di questa informazione che noi abbiamo voluto subito dare ai nostri ascoltatori un'informazione che l'abbiamo data in diretta questa sera ma che resterà diciamo sul nostro sito sul giornale online mesagnesera e quindi chiunque lo potrà poi sentire e ripeto appuntamento per informarsi gratuitamente non c'è niente da pagare il 5 di aprile qui negli studi di Lava Christian in via Luca Antonio resta alle ore 19 verranno degli esperti della Tatix Group società specializzata in questi servizi avanzati e quindi il nostro commerciante il nostro piccolo imprenditore artigiano addirittura potrà sentire questa nuova questa novità questo ulteriore io lo chiamo come l'ho chiamato all'inizio balzello per le nostre economie grazie Francesca grazie a voi vi aspettiamo quindi il 5 di aprile buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti